Amici di Fisarmonicando, per voi una grande proposta. Carlo Venturi, il numero uno della Fisarmonica italiana e non solo. Direttamente a casa vostra la più grande collezione audio-video dedicata al maestro Carlo Venturi. Il tutto a 50 euro, spedizione con voi. Per voi il fuoriclasse, il mito, l'interprete, due cd con l'esibizione dei grandi Fisarmonicisti al Teatro Fanin per il Memoria Carlo Venturi, due dvd con il film dell'intero spettacolo, conforto ed intervista. Chiama il 338-6489-820 e a soli 50 euro, spedizioni comprese, avrete a casa vostra 5 cd più 2 dvd del grande Carlo Venturi. Chiama il 338-6489-820 e direttamente nelle vostre case avrete 5 cd e due dvd del grande Carlo Venturi.